Ma mamma, mamma, li turchi, mamma arrivano li turchi, eh sì, si diceva così una volta quando i turchi sbarcavano sulle coste cristiane, si diceva mamma li turchi, adesso si potrebbe dire mamma li turchi e guardando alcuni profili twitter, perché io sono capitato involontariamente su un profilo twitter di un turco, un ottomano, uno della Zebarjain, e io pensavo che le misure più grosse ce le avessero quelli della razza nera, e invece qua ho visto delle misure che mettono paura, per questo il video è intitolato mamma li turchi, sì sì, su twitter ho trovato qualcosa di orribile, e mi dispiace che oggi è Pasquetta, il giorno successivo a Pasqua, mi dispiace di parlare di queste cose in questo giorno festivo, è mamma di turchi, voi provate un po' a guardare il link che c'è nel riassunto di questo video, ah se voi siete delle mie care telespettatrici, non lo aprite il link, non lo aprite il link, capito? Perché trovate una cosa molto brutta, molto brutta, una cosa così brutta che mi ha fatto pensare alla locuzione è mamma li turchi, mamma li turchi, e oggi li turchi li trovi su twitter, mamma mia che cosa ho visto, mamma mia, mamma li turchi, se siete telespettatrici, gentili telespettatrici, non aprite il link che trovate nel riassunto di questo video, capito? Per favore non lo aprite se siete delle telespettatrici, va bene cari, a tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni